Il sogno a promozione del rugby Lucca si è infranto duramente contro un muro chiamato Elba. La squadra di mister Giovannico, che ha dovuto fare di necessità virtù schierando una formazione sperimentale, nel giorno più importante ha subito la sconfitta più pesante, incassando un 12-63 che non ammette repliche. Lucca ha perso contro un avversario che si è dimostrato più forte e preparato. Anche le recriminazioni non sono molte, la fase difensiva poteva essere gestita meglio, ma probabilmente il risultato non sarebbe cambiato. La squadra di Giovannico paga senza dubbio la fatica di un campionato molto lungo e duro come quello di quest'anno, oltre ad una serie di infortuni che da inizio stagione l'hanno falcidiata. Detto questo, l'annata non è certamente da buttare. La squadra ha concluso la regular season al terzo posto, battendo tutte le formazioni almeno una volta, salvo Firenze, vincitore del torneo, e sciorinando una qualità di gioco tra le migliori, a detta di tutti gli avversari. Dunque una buona base da cui ripartire la prossima stagione per provare nuovamente l'assalto alla Serie B. Gli impegni per Lucca non finiscono qui, la squadra domenica andrà in trasferta all'Isola d'Elba per il ritorno del play-off e sarà infine impegnata nella finale di Coppa Toscana che si svolgerà il 4 giugno. Due impegni fondamentali per chiudere la stagione onorando la maglia e cercando di portare a casa almeno un trofeo.